Bene, come prima cosa auguro a tutti quanti voi per questa buona Pasqua, primo aprile, non fate troppi scherzi, la fortuna è che ci siamo trovati con un primo aprile che è di domenica e di Pasqua e quindi quello che fa premio sarà la Pasqua e non quella minchiata degli scherzi del primo aprile. Questo non è uno scherzo, è la nostra solita zuppa di porro, zuppa pasquale per questa domenica per sapere che cosa i giornali hanno trattato, posto che domani siamo tutti in vacanza perché non ci saranno i giornali e quindi anche la zuppa salterà un giro, anzi ne ho saltati alcuni in queste ultime settimane perché ero veramente stanco, di fatto questo impegno che inizia l'ottobre del 2015 è una roba tosta, gli consiglio sempre di andare a vedere quello che succede anche sul mio sito nicolaporro.it, ad esempio il caso di oggi sui giornali, il caso di Bardonecchia è stato da me commentato anche ieri sera perché il caso di Bardonecchia si capiva già ieri che era una cosa incredibile, i fatti sono semplici e tutti i giornalisti lo raccontano, c'è un immigrato nigeriano con carta di soggiorno italiana che dalla Francia arriva all'Italia, i gendarmi francesi temono che lui contenga abbia della droga in pancia, vogliono fargli fare un esame delle urine, questo non può essere fatto sul treno, può essere fatto nei locali di Bardonecchia e i gendarmi non solo scavallano in Italia, ma entrano armati nonostante gli abbiano detto di non farlo all'interno del centro tenuto in piedi da un'associazione umanitaria a Bardonecchia per fargli fare l'esame delle urine, allora tutto a posto, i controlli sono giusti, ma il tema fondamentale è che questi signori armati non potevano entrare nel centro assegnato dal giusto o sbagliato dal comune di Bardonecchia all'organizzazione non governativa che si occupava di questi migranti. Il tema quindi è molto importante, soprattutto perché come si nota oggi sulle indiscrizioni di tutti quanti i giornali, Minniti, il ministro dell'interno dice stop alla Francia adesso a questo punto per qualsiasi intervento in Italia, perché ci sono ancora dei trasfrontalieri per cui i francesi possono arrivare in Italia, dubito che i italiani possono andare in Francia, ma i militari francesi, i poliziotti francesi possono venire in Italia senza chiedere le due autorizzazioni, in realtà ci sono casi molto particolari, specifici che sono considerati fattibili. Minniti dice adesso stop a qualsiasi ingresso in Italia da parte di militari francesi. Allora però, cosa è successo? Perché Minniti si arrabbia tanto? Perché da parte della Francia, dopo aver convocato la Farnesina e il suo ambasciatore, insomma da parte della Francia non c'è stata scusa, non ci sono state scuse, nessuna scusa da parte della Francia sullo sconfinamento e nessuna, come possiamo dire, nessuna ammissione di questo errore, ecco questo non è accettabile ovviamente all'Italia perché gli errori nei confini si commettono e Francesco le forze dell'ordine italiana che facevano, dormivano e non è che si può iniziare, soltanto uno ebbe il coraggio di fare un corpo a corpo tra gli italiani e all'epoca erano le forze militari americane e fu a Sigonella Bettino Craxi, ancora ci ricordiamo come è finita con Craxi. Ma oggi è molto divertente tutti quanti i commenti un po' imbarazzati sul Long Marche, il partito degli europeisti che vi ricordate quando fu eletto Presidente della Repubblica Francese ci fu l'inno alla gioia, ci fu il senso del grande europeismo francese, col cavolo e soprattutto i nostri giornali italiani e anche del mio amico Cerasa che ci hanno detto, Macron, la grande idea di un'Europa non populista che non sta presso alle pulsioni più retrograde contro dei migranti, ecco si è visto quali sono le pulsioni, perché quello è stato zitto e buono, perché oggi che è in grande affanno sondaggi ed elettorale Macron, oggi ha avuto il tipico atteggiamento populistico, quello che lui va a condannare alla Leppè, a Salvini, come dice Michela Marzano oggi, qual è la differenza tra l'atteggiamento che ha avuto Macron sui confini, gli sconfinamenti, l'atteggiamento dei migranti in Italia, a Calais, a Ventimiglia e quello che ha in Austria e in Ungheria, l'odiato Orban, qual è la differenza tra questi due comportamenti? Si chiede retoricamente Michela Marzano oggi su Repubblica, io posso anche essere d'accordo sul comportamento di Macron da un punto di vista pratico-operativo, ma il punto fondamentale è che ce l'avete raccontato sempre come l'ultimo baluardo dell'accettazione di un'Europa soprattutto, e poi questi che fanno? Non si vengono non solo dell'Europa ma dell'Italia, ma vengono qua a romperci le balle, insomma io la trovo una cosa incredibile. Nordio oggi ne parla sul Messaggero e ci dice come in realtà questa sia anche per lui uno sconfinamento, addirittura lui fa un paragone straordinario, cioè dice neanche i nazisti, come si vede in tanti film, ma soltanto nella storia della seconda guerra mondiale avevano il coraggio di sconfinare in Vaticano, in Svizzera, cioè nei paesi neutrali, non sconfinavano, cioè o facevano guerra o non sconfinavano. Molto divertente anche oggi controintuitivo libero che dice tutti i politici italiani sono contro questo sconfinamento dei francesi, quando la cosa è semplice, sono tutti d'accordo, forse invece di fare i fenomeni fate un governo che è quello che oggi servirebbe per riuscire a evitare cose di questo tipo. Molto divertente la posizione di Claudia Mendola, passiamo dalle cose serie a quelle farsesche, perché Claudia Mendola dice che Salvini è il politico più capace degli ultimi vent'anni, oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera in prima pagina che si occupa il genere di televisione, ma una volta alla settimana scrive in maniera incomprensibile, ma oggi molto comprensibile, oggi è stato molto tagliato, nel 90% dei casi è una specie di Brodino in cui non si capisce che cosa intenda Grasso, oggi invece Grasso si capisce perfettamente dove vuol tirare il suo Brodino, il suo Brodino è, ma scusami, Claudio Mendola dice Aldo Grasso, ma tu non sei quello che definiva razzista Salvini, com'è possibile che oggi lo definisci il miglior politico più capace degli ultimi vent'anni, insomma lo prende molto per i fondelli, sullo stesso giornale Labbate, probabilmente l'editorialista e il giornalista non si sentono, spiega che invece la posizione di Claudio Mendola rimane sempre e comunque una posizione de sinistra, come tutto l'altro, fa tutta la lista delle Margherita Bui, cioè di tutto questo personaggio dell'intelligenza inutile italiana, di quegli attori tremolanti che sono sempre stati accucciati a sinistra e ben gli sta, ma molto divertente l'idea di questo Aldo Grasso che prende per i fondelli in maniera farsesca la farsa italiana del carissimo vincitore, diciamo un po' imitando Kim Il Sung, come cavolo si chiama il boss coreano. Cosa sta succedendo sulla questione Mediaset Sky? Nel giorno dopo un po' tutti quanti gli opinionisti, gli editorialisti, ma non sono opinionisti, quelli che raccontano la cronaca avviene. Guardate la cosa qui è molto semplice, Mediaset aveva la possibilità di fare una grande alleanza con Tim e quindi con Bolloré che è l'azionista al 28% di Tim, quindi due erano le cose che sono successe però con Bolloré, il primo è che quando Berlusconi è stato operato di cuore, Bolloré gli ha voluto scavallare, gli ha voluto scalzare l'azienda, scalandogli addirittura Mediaset e la seconda cosa che gli ha fatto, sempre mentre Berlusconi era in una situazione un po' di debolezza, gli ha rotto il contratto per l'acquisto di Mediaset Premium. Berlusconi ha continuato a trattare evidentemente con i francesi perché è uno che tratta anche con il diavolo, questa è la sua grande capacità convessa di trattativa e questo vale anche per il governo e dall'altra parte però ha ripreso i fili, le fila con Sky del suo vecchio amico Marduk. Alla fine la sostanza è che tenendo in parallelo le due trattative quella che ha chiuso per primo è quella con Marduk, quindi sale l'accordo tra Mediaset e Marduk per fare una grande piattaforma digitale europea con i soldi, le library di Mediaset di Marduk, la ben più grande Sky di Marduk in prospettiva anche della Walt Disney e ha mollato per il suo destino i francesi di Bolloré che hanno dei grossi problemi non solo con Mediaset che gli ha fatto causa per 3 miliardi perché ha rotto i contratti e l'ha scalata ma ha dei grandi problemi anche nella stessa team di cui ha il 24% perché un fondo avvoltoio come si suol dire è andata lì a raparsi la team di cui i francesi hanno gestito in maniera pessima i conti negli ultimi anni. Questo è quello che sta avvenendo, i giornali oggi ne parlano con grande risalto nelle pagine economiche. Fantastica adesso l'idea che ha lanciato pensate un po' voi Padellaro e il Presidente della Camera FICO ripresa oggi dallo strillone del Movimento 5 Stelle che è Il Fatto compreso Travaglio in cui si sono inventati, sapete che cosa può succedere? Che mentre non si riesce a fare il governo, perché loro volevano prima il governo tra Movimento 5 Stelle e PD, questa era la linea chiarissima di Travaglio del fatto di cui il medie culturale è là, non ci sono riusciti perché il Movimento 5 Stelle si è un po' automatizzato, lo ascolta meno il fatto e ha preferito fare il governo con l'altro vincitore, con Lega 5 Stelle, almeno questo è quello che è nel bilancino delle trattative, quella più probabile oggi e allora che cosa si inventa il fatto? Non facciamo un governo, che sia il Parlamento a fare le leggi, mentre il governo vediamo un po' quando e come si farà. Ma sapete di che quali sono queste leggi fondamentali che deve fare il Parlamento? Beh, togliere l'indennità ai Presidenti delle commissioni parlamentari, allora a me sta bene tutto, ma secondo voi risolviamo il problema del Paese togliendo al Presidente della commissione antimafia i 5 mila Euro di stipendio al mese su 4 anni, questo è il problema dell'Italia, veramente vogliamo prendere per il fondello italiano, vi può piacere, vi vuole non piacere, ma è questo il problema, togliere l'indennità al Presidente della commissione antimafia o della commissione vatte la pesca permanente del Parlamento, ma dai, è una roba non ridicola, più che ridicola, questo è un Paese che ha bisogno di tante altre cose, certo un po' di sobrietà nella politica non fa male, ma insomma adesso questa coda, la carfagna che si toglie l'indennità, quell'altro che non spedisce più le lettere, quell'altro che telefona soltanto la sera quando costa di meno, quell'altro che spegne la luce, adesso siamo diventati quell'altro che va in autobus, quello che va con il triciclo in Parlamento, è tutta fuffa, presa per il culo, così come ci prendeva per i fondelli Macron facendo finta di essere il grande europeista e poi dopo mena i nigeriani in Italia, così noi adesso stiamo facendo finta di fare i risparmi, mentre ben altri sono i costi, non benaltrismo, ben altri, non sono 5 mila euro di indennità, quello che sta succedendo a Gaza e a Damas è una cosa incredibile per come viene raccontata dai giornali, sembrano i soliti grandi torturatori israeliani, ebrei contro i poveri, innocenti, palestinesi, è inutile combattere su questo pregiudizio, ma oggi almeno vi segnalo una cosa che così vi sia chiaria, anche perché molti di voi l'hanno letto, Joshua, un grande scrittore, un grande pacifista, ci spiega due cose, le manifestazioni sono una provocazione di Hamas, perché è come se ci fosse una provocazione, una manifestazione di 40 mila italiani ai confini con la Francia, dopo anni noi sosteniamo che la Francia deve morire, no? Chiaro, questo è quello che avviene, e dice un'altra cosa favolosa Joshua, che tutti gli analisti sanno, Hamas, che è un gruppo di terroristi che sta governando la striscia di Gaza, a differenza di quello che avviene per esempio in Cisgiordania, vuole che questi siano delle bombe umane e che facciano una vita di merda, che siano dei poveracci, che non gli arrivino tutti quanti quei fondi che noi europei stiamo dando all'organizzazione della liberazione della Palestina, o come diavolo si chiama, diciamo addirittura da Hamas, sono tenuti in caldo per far casino, va bene? Questo dice non Porro, non Netanyahu, non i falchi sionisti, come piace, tra l'altro un grande sionista come ricordavo sulle mie recensioni, guardatele sul sito nicolaporro.it, si chiama Isaia Berlin, ma comunque Gaza sarebbe potuta diventare una mini Singapore, dice Joshua, se non ci fosse stato Hamas a schiacciarla. Leggetelo e capirete come è un po' diverso quello che vi stanno raccontando. Ultima questione di giornata, è molto interessante quel pezzo che ho letto oggi, sì, e danno indennità ai parenti dei terroristi, è ragione Dome, c'è un'altra delle cose fondamentali, cioè noi abbiamo delle indennità ai parenti dei terroristi date da organizzazioni umanitarie che sono aiutate da tutte quante le ONG mondiali. Va bene, l'altra cosa fantastica è questa roba della speed, forse voi non lo sapete, ma doveva esserci dal 2014, mi scontrai anche amabilmente col Ministro Madia, una specie di password elettronica che ci permetteva di entrare in tutte quante le branchie diverse della pubblica amministrazione. In qualsiasi settore della pubblica amministrazione entravamo con una sola unica password. La difficoltà per fare quella password l'ho ricordata, l'ho scritta, l'ho raccontata, si è googolato speed, porro, vi racconto la follia per ottenere questa speed, ma una volta che l'ho ottenuta cosa scopro? A quattro anni di distanza, quello che leggo oggi sul Corriere o su Repubblica è che soltanto 2,3 milioni di italiani l'hanno fatto questa speed, di cui la maggior parte sono i diciottenni per avere il bonus dei diciottenni fatto da Renzi, che mi sembra sono 600 mila diciottenni. Gli altri pazzi che come me l'hanno fatto, hanno provato a farlo, in realtà soltanto 3.866 pubbliche amministrazioni sono attive, con solo 4.371 servizi, si tratta meno della metà della pubblica amministrazione. Allora io dico, tu sei il ministro della pubblica amministrazione. La speed, a me mi dici di farla con tutto quel casino, la pubblica amministrazione tu passi dalla mattina alla sera e fai sì che tutte le porca puttana di uffici della pubblica amministrazione lo adottino. Ma cosa vuol dire che in quattro anni non l'hanno adottato? prendi il funzionario, lo prendi a calci nel culo, non per l'orecchio così, a calci nel culo. Non puoi obbligare in una legge la pubblica amministrazione a fare qualche cosa e la tua amministrazione, ma in un'azienda normale ci si mettono 4 anni per implementare una password da parte degli utenti uguale per tutti i propri uffici? Ci vogliono 4 anni, abbiamo meno di metà degli uffici della pubblica amministrazione, meno di un terzo dei servizi della pubblica amministrazione. La colpa è della pubblica amministrazione? Certo, ma anche di chi la comanda, che sta lì ad andare ai convegni, mandarsi lì a prenderci a calci nel sedere se non lo fanno, no? Comunque direi che con questa mia ultima notazione vi auguro buona Pasqua, vi dico che stiamo un po' tranquilli in questi ultimi due giorni, leggetevi un bel libro che vale molto di più di tutte le cose di cui ci stiamo parlando. Io ho letto questa settimana un libro favoloso di IBL Libri, lo trovate sul giornale e oggi sul sito nicolaporro.it, è le critiche alla tesi di Piketty per cui la disuguaglianza sta aumentando ed è necessaria una forte tassazione risarcitoria nei confronti di quelli che non hanno avuto danaro. È un libro straordinario, tutti contro Piketty, il libro leggetevelo è davvero val la pena. Tantissimi auguri a tutti i voi, condividete questa zuppa se vi è piaciuta e se avete tempo oggi sito nicolaporro.it. Ciao!